Ora vai, vai, vai! 80, apri, poi sinistra 6, destra 3, barriera all'esterno e sinistra 3, lunga. 150, apri, attenzione, salto, stai al centro, su tosso. 50, destra 3, 40 e sinistra 3, barriera all'esterno. 40, destra 5, non tagliare e 40. Sinistra 3, alberi all'interno, chiude. 60, destra 4, molto lunga, non tagliare. 60, sinistra 4, apri e 100, su tosso, stai al centro. 60, attenzione, destra 3, muro all'interno, poi sinistra 3, lunga. 60, destra 4, non tagliare. 40, sinistra 3, lunga e 60. Poi destra 6, sinistra 6, alberi all'interno e destra 6. Attenzione, sinistra 2, molto lunga, alberi all'esterno, chiude. 60, destra 4, non tagliare e 40, poi sinistra 4, apri. 60, si stringe, in destra 6 e sinistra 6, molto lunga, chiude, su tosso, diventa sinistra 3, non tagliare. 60, destra 3, lunga. 150, attenzione, incrocio e sinistra 2, barriera all'interno. 60, sinistra 5, in destra 4, stai al centro. 80, sinistra 3, lunga, chiude, alberi all'esterno e destra 3, edificio all'esterno. 100, apri. Poi destra 4, apre. 300, stai al centro. 100, sinistra 4, lunga. Poi destra 4, alberi all'esterno, sinistra 3, alberi all'interno e 60. 90, destra 4, lunga, alberi all'esterno. 80, apri, dopo edifici, destra 3, chiude. Poi sinistra 3, non tagliare e 40. Sinistra 4, in destra 3, chiude. Poi sinistra 4, molto lunga, apre. 300, apri, stai al centro. Destra 5, molto lunga, non tagliare, apre. Poi sinistra 5, 40 e sinistra 5. Destra 5, 40, su tosso. Destra 5, non tagliare e 100, apri, fraguardo. Destra 5, 40, appri, fraguardo. Destra 5, 40, dependiare e 100, du cattogro. Destra 5, 40, dis hå alla perla ho precio pra pieno mochilqué. Destra 5, 90, amore dei 24, sarpop vegetation o star paralyzed in questo episodio.